rosalinda cannavoa è tornata verissimo nella puntata in onda su canale 5 sabato 24 settembre per presentare il suo libro autobiografico dal titolo il riflesso di me un libro nel quale l'attrice ripercorre alcuni dei momenti più drammatici della sua vita che l'hanno portata a soffrire di anoressia l'ex concorrente del grande fratello vi per arrivata a pesare 32 chili a fare abuso di medicine e a pensare continuamente al suicidio una profonda sofferenza scaturita da alcune scelte che rosalinda cannavoa compiuto per affermarsi come attrice prima fra tutte il suo cambio di nome con quello di adua del vesco a silvia toffanina raccontato avevo affidato la mia vita ad altre persone mi era stato detto che per la televisione dovevo perdere dei chili per questo per tantissimi anni sono sprofondata nell'anoressia ma non mi rendevo conto non avevo la percezione di credevo a tutto quello che mi dicevano e mi lasciavo condizionare oltre al cambio nome sono cambiata interiormente ho iniziato a comportarmi diversamente da come ero io questo mi logorava dentro tra le persone con cui rosalinda cannavoa si è interfacciata in questo tortuoso percorso c'è stato anche lo sceneggiatore teodosio losito scomparso quattro anni fa e per il quale c'è un processo in corso è stato un evento molto duro che mi ha svegliato da un incubo ho capito che dovevo allontanarmi da quel mondo che mi stava distruggendo come ha fatto con lui dopo la sua morte ho fatto un viaggio all'urde per ritrovare la fede che avevo perso nel corso degli anni oggi sento teodosio molto vicino ovunque sia lo penso ogni giorno spero che la giustizia faccia il suo corso alla fine dell'intervista a verissimo rosalinda cannavoa ha confermato adua non esiste più è solo un ricordo finalmente è finto quest'incubo oggi non permetto più a nessuno di approfittarsi di me gran parte del merito del cambiamento di rosalinda cannavoa va dato al grande fratello vip l'attrice ha preso parte alla quinta edizione del reality show quella vinta da tommaso zorzi entrata come adua del vesco la giovane ha poi svelato nella casa più spiata d'italia segreti e retroscena del suo percorso nel mondo dello showbiz come i finti fidanzamenti con massimiliano morra e gabriel garco e la lotta contro l'anoressino